e poi io 10 minuti ho finito hai finito e allora facciamo una serata diversa stasera allora stasera andiamo al casino dai no no al casino no no per piacere no no capace che ci riconoscono al casino che ci riconoscono ci andiamo a cambiare abiti civili andiamo al casino ci mancherebbe albic doveva andare con la divisa al casino che ci riconoscono subito no 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 al casino no a parte fatto una volta mi hai fatto farà tutta figura che l'hai detto a tutti quanti che eravamo carabinieri io allora è fuggito così nel parlare al comune non lo dice stasera io lo devo dire non lo dico giuro 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 come lo devo dire sicuro me dai dai a casa mia vai 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 va bene vediamo giù non ci riconosco scusa è a me è a me lei ha puntato sapevo lo sapevo lo sapevo pure quale hai detto io non ho detto niente io non sono appuntato io sono brigatiere è lui che è appuntato